Sì, ti dicevo, quali possono essere invece le città o comunque i luoghi più gettonati, più in qualche modo attrattivi per uno straniero, no? Perché tu ovviamente sei di Roma, vivi a Roma, però immagino che gli stranieri vogliano trasferirsi in diversi luoghi d'Italia. Quali sono quelli più richiesti in qualche modo? Questo dipende da che tipo di vita vogliono. Se la persona ha bisogno di lavorare o vuole una certa carriera, in quel caso magari non ha senso di andare a vivere in una cittadina. Quindi, a questo punto, Milano sicuramente sarà la scelta migliore. Se ha un borderless business, un'attività che uno può gestire in qualsiasi parte del mondo, finché c'è una connessione buona di internet, uno può andare anche a vivere in un, non lo so, un piccolo paese in Sardegna, per esempio. Certo. Dove tra l'altro avrà una vita che costa molto di meno e può vivere una vita molto tranquilla, e con del buon cibo, vino e tutto il resto, buon clima, tutto l'anno. E' lì dove io devo cercare di capire cosa vogliono fare. Se uno è in pensione, anche con una pensione non enorme, può andare a vivere in alcuni paesi, in Sardegna, Abruzzo, Calabria, e può vivere molto, molto, ma molto bene. Quindi dipende ovviamente dalle necessità, certo. Roma è piuttosto come destinazione perché è una città grande e quindi qualsiasi città grande ha i suoi problemi, traffico, parcheggio, il trasporto, e il costo della vita è molto più alto. Certo. Quindi ovviamente dipende molto dalle necessità, ovviamente, di chi... Esatto. E poi il governo italiano adesso ha questo regime di tasse speciale. se le persone vanno principalmente al sud e in paesi che hanno, se mi ricordo bene, meno di 20.000 abitanti. Quindi pagano soltanto... Questo è interessante, non sapevo. Pagano soltanto il 7% di tasse per un tot di anni. Wow, questo è molto interessante. Infatti non avevo... non lo sapevo. Questo è molto, molto interessante.